Finalmente una bella notizia, una notizia che ci riempie un po' il cuore in questo momento difficile per il Milan soprattutto, l'abbiamo sempre tante volte detto, Milan figlio degli infortuni, momento figlio degli infortuni, perché signori mi direte, bah che bella notizia, mi sembra una notizia normale, no, Rebic è fuori che corre, Rebic è fuori che corre, ha lasciato le varie palestre, lettini dei fisioterapisti ed è fuori che corre, quindi non dovrebbero esserci problemi per averlo bello, con il pelo lucido, magari non lucidissimo come il cavallo dello sceico di Almaktoum, ma riteniamo proprio che per il 6 contro la Roma ci possa essere, voi mi direte, eh ma c'è prima la partita con Napoli, c'è prima il periodo con l'Empoli, sì, vero, poi parleremo di quelle partite, ma intanto Rebic è fuori che corre e quindi buon segno, Leao invece è ancora dentro per precauzione, vogliono averlo pronto, insomma si tratta adesso di stringere i denti senza Calabria e non è un caso che il Milan abbia preso i gol, non solo senza Chier ma anche senza Calabria, soprattutto senza Calabria, giocatore fondamentale nei due ruoli, anche propositivo in avanti, ma stavo dicendo si tratta di stare tutti insieme, senza critiche, stando vicino ai ragazzi, perché adesso si tratta di riuscire a portare a casa più punti possibili nelle prossime due partite, quella con il Napoli e quella con l'Empoli, per girare a una quota degna di un grande inizio di campionato e per essere pronti poi con tutta la nostra rosa, anche perché si giocherà praticamente sempre, visto che ci sono gli impegni di Coppa Italia, il primo contro il Genova di Andrishevichenko qui a Milano, poi ci sarà la favorita, non so se passerà il turno o meno, ma comunque la favorita è la Lazio e poi favorita sotto è l'Inter, la semifinale con l'Inter, ma ora si tratta di stringere i denti, si tratta di riuscire a portare a casa risultati, punti importanti contro il Napoli e contro l'Empoli. Un Empoli arrembante, un Napoli che cerca di uscire anche lui dal momento shock dopo i tanti infortuni che ha avuto, con quali giocatori non si sa perché, sto parlando del Milan, perché oggi non ci sono stati esercizi, esercitazioni tattiche. Dopo il pranzo di ieri, offerto da Pioli per festeggiare il suo rinnovo, il rinnovo con tutta la squadra, lo staff tecnico e i presenti Ivan Gazzidis, Paolo Maldini e Ricky Massara. Una bella tavolata in un ristorante vicino all'Arena di Milano, quindi in pieno centro. Dicevo, non ha effettuato esercitazioni tattiche, quindi non sappiamo quali siano oggi le scelte. Sembra sicuro ovviamente che sì e Tonali, come anche Tomori, come Romagnoli, come Teo Hernandez, come Mignan. Favorito lì, 50 e 50 per adesso tra Florenzi e Calullo, io penso che andrà ancora forse su Florenzi, ma lì lasciamo il ballottaggio. Là davanti sono sempre i quattro uomini, uno rimarrà a casa, o meglio in panchina, tra Selemeker, Krunic, Diaz, Messias e Ibra. Anzi, sono cinque e sì, quattro saranno in campo, uno rimarrà in panchina. Quale adesso non è dato di sapere, ma ieri vi avevo detto, attenzione, Giroud forse rientra oggi ma non è detto in gruppo. Mi dicono, sembra che domani sia veramente in gruppo. Non è stato fuori per degli esercizi di riabilitazione, ormai il giocatore è guarito, ma proprio per mettere corsa, tiri, per mettere benzina nelle gambe, per rendersi utile, magari non solo negli ultimi dieci minuti, ma anche per una bella fetta di partita. Questo è lo scopo di aver tenuto ancora un paio di giorni in più il buon Giroud, che viene considerato ormai un altro di quegli acquisti non utili al Milan. Calma, abbiamo visto il prima parte di Giroud, grande giocatore, anche bravo contro Torino e contro il Verona. E poi un Giroud che dopo il problema del Covid, il mal di schiena, ha portato la postura e ha portato dei problemi fisici. Ultima puntata per quello che riguarda Bremer. Abbiamo detto dell'interessamento del Milan e la speranza che possa avvenire a gennaio. Noi stiamo sempre dietro la notizia senza grandi esplosioni. Abbiamo detto dell'interessamento del Milan per Bremer, sempre in mezzo alla questione Pobega. Poi abbiamo anche detto, attenzione, si tratta di limare la questione economica. Poi abbiamo detto, attenzione, apertura del presidente Cairo, che ha detto, non so, abbiamo pensato noi fosse un'apertura, non so, vedremo al momento opportuno. Invece oggi, in Lega, l'ultima puntata, è una puntata che ghiaccia un po' le speranze di averlo a gennaio, perché è il presidente che aveva detto, non so, vedremo. Vediamo se riusciamo, a proposito di vedere, se riesco a darvi esattamente la frase oggi del presidente Cairo, che sto andando, vediamo, a leggere. Eccolo qua. Uscito dalla Lega, queste le parole del presidente del Torino. Per Bremer non ho parlato con nessuno, è un nostro giocatore e non ho mai pensato di venderlo a gennaio. Mentre aveva detto l'altra volta, non so, vedremo. Bremer è nostro, rimane con noi per tutto il resto del campionato e poi vedremo. Quindi il Milan dovrà cercare un'altra figura, altre figure per quello che riguarda il nuovo, il difensore centrale, che possa essere un'alternativa valida a Chier. Come anche ha ribadito nel video di oggi il collega, l'autorevole collega della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, vedremo quale sarà la figura se è un giocatore giovane. Sembra che si vada verso un giocatore giovane che poi possa essere utile nel caso, come sembra, che ci siano aperture per il rinnovo di Romagnoli. Essendo un giocatore giovane, ecco che il Milan potrebbe avere l'esperienza di Romagnoli, l'esperienza di Chier, perché Chier torna, la freschezza e l'aggressività di Tomori e nel caso di eventuale prestito di gabbia che vada ad affinare le sue qualità in altre squadre potrebbe esserci poi il giovane, un altro giocatore giovane brillante che possa aiutare il Milan nella fascia centrale della difesa. Ma adesso la sigla, perché adesso siete la parte dedicata alle vostre domande, alle vostre opinioni, alle vostre critiche e al vostro sempre totale affetto al Milan. La sigla. Ed eccoci, avete sentito la sigla e partiamo subito da Andrea Brusa Molino che esamina la situazione di Teo Hernandez. Secondo me l'amico Andrea dice, attenzione, secondo me avrebbe bisogno di qualche giocatore Teo Hernandez che gli dia un po' di fiato sul collo, si sente tranquillo e gioca con sufficienza a volte. Guarda, per quello che riguarda Teo Hernandez mi sembra che sia una questione fisica, il raffreddore forse l'ha debilitato, è proprio una questione fisica più che morale e fiato sul collo. Molti mandano gli auguri, visto che oggi è il 16 per il compleanno del Milan. È piaciuto questa mattina le mie citazioni di Danny Boyle e il Procol Arum. Lo zoccolo duro dice, non vinciamo niente da più di dieci anni, tolta ovviamente la Supercoppa, e quest'anno rischiamo di vederci sbattere in faccia la seconda stella dei cugini. È inaccettabile. Questa proprietà è interessata a vincere o al bilancio? Questo è un tema che ricorre riguardo al discorso della proprietà, quali siano le intenzioni della proprietà. Per adesso mi sembra che Investimenti è stata pronta a prendere Piontech, ricordate quando serviva Piontech e ha preso Piontech e Pacchettà. Non è stato un investimento ma i soldi li hanno messi. Nella scorsa sessione di mercato hanno investito in Mandzukic e Tomori, qualche investimento va bene, qualche investimento meno bene. Hanno messo 70 milioni nella scorsa estate, questi sono dei dati. Poi è una proprietà che può anche non piacere. C'è da dire che mi sembra molto vicino a livello economico per rafforzare la squadra, sempre. Capisco, che il tifoso voglia il top, il top player. Vediamo se anche in questo senso la proprietà avvicinerà i desideri dei tifosi. Ma sapete che hanno delle linee precise loro, prospetti, giocatori di prospettiva, giocatori che possano crescere. Lì poi deve esserci sempre il cuscinetto Maldini proprietà per trovare le soluzioni. Vediamo poi, eccolo qua, Bernardo Lauducci è sicuro che questo periodo passerà, un periodo che ha visto il Milan pareggiare con l'Udinese, ma vincere con Saleritana e Genova. Sembrava tutto assodato, però intanto il Milan ha vinto ed è stato bravo a onorare il suo ruolo di favorito. Andiamo poi a leggere anche Luigi Michele De Santi. Se il problema dell'infortuna del Milan sono più di due anni che si va avanti, mi auguro che si venga trovata una soluzione. È il leitmotiv di questi interventi. Ecco, riguardo alla proprietà avevo detto che non la cambierei con nessuno. Francesco Scaglia dice, anch'io me la tengo stretta, ma il problema è che altri indebitandosi, facendo plusvalenze, fittinze e altra finanza creativa, vincono e non subiscono penalizzazione. Ecco, io volevo che tra Giroud e Vlaovic la mia proprietà andasse senza indugi sul serbo, come faceva Galliani. E anch'io, il mio sogno oggi è uno solo, Vlaovic. Sarà un sogno realizzabile? Non lo so, però questo è il mio sogno. Nuccio Florio dubita un po', dice il Milan sul reparto offensivo. Il Milan non ha un normale centravanti. Io direi che il Milan ha tre centravanti, ma neanche un quarto Rebic che può ben compendiare. E dunque, vediamo. Intanto Zlatan Ibrahimovic continua a timbrare il cartellino realizzando gol. È anche molto bello. E anche la settimana scorsa, l'ultima partita con l'Udinese, il colpo di testa in torsione scopadea è stato straordinario. Quindi, tutti che battono sul discorso degli infortuni. Francesco Allocca dice che non abbiamo la squadra competitiva come l'Inter. Ora dobbiamo vincere almeno una Coppa Italia che rinnovo a Piogli. Si è stato fatto per questo, non solo per vincere le partite e restare lì e fare le prime in classifica. Va, io direi che in questo momento, signori, non è che mi susciti un'emozione particolare vincere la Coppa Italia. Io sogno ancora in grande a un punto dal vertice. Quindi, Marsigliese e Marsigliesi, i dati oggettivi dicono che non siamo la squadra che corre di più, quindi non si dia la colpa al fatto di correre. Anche questo, però, è una squadra che comunque, ecco, diciamo che non è una squadra che corre, ma una squadra che aggredisce. Marco Marocchi, quello che mi piace della proprietà è che ha detto quello che vuol fare nei prossimi anni o di crescere gradualmente. E per quest'anno arrivare fra le prime quattro non è di più e ha creato la squadra per questo obiettivo. Io, l'anno scorso, per arrivare fra i primi quattro, quest'anno, l'anno scorso secondi, mi auguro che ci sia un ulteriore salto di qualità. E con questo è tutto. L'appuntamento è per il video di domani mattina. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegati. Sono contento che la sigla e questa parte è dedicata a voi. Piace, piaccia sempre.